Ciao amici di Matto Scacco, vediamo questa partita di Carlsen che ha compiuto gli 11 anni e inizia a giocare finalmente contro i giocatori fortissimi. Ed eccoci qui, riprendiamo la nostra serie di partite giovanili su Carlsen. Se ti sei perso la prima partita te la farò comparire qui in sovrappressione, te la puoi riprendere in modo tale da avere un ordine cronologico. Questa volta Carlsen ha un anno in più. La partita precedentemente commentata prevedeva che Carlsen aveva 10 anni e adesso ha 11 anni e finalmente inizia a fare tornei dove ci sono veramente adulti e gente forte. Quindi c'erano avversari che avevano oltre i 2000 di elo e in questo torneo Carlsen riuscì a fare solo 3,5 su 9 che può sembrare un risultato modesto ma per un ragazzo di 11 anni giocare contro giocatori che hanno 2000 punti e fare 3,5 è comunque veramente un ottimo risultato. Questo torneo è stato tenuto a Gasdal che si trova in Norvegia ed era un punto di riferimento per i giocatori norvegesi che potevano confrontarsi a livello internazionale proprio perché molti forti giocatori venivano proprio anche da fuori per giocare quell'importantissimo torneo. In questa partita che andremo ad esaminare Carlsen gioca con il bianco e gioca contro un certo Goran Fant che ha 2062 punti. Carlsen gioca con il bianco e apre con E4 e si ritrova subito contro una difesa francese. D4 per continuare, D5 tutto secondo i piani, cavallo C3, alfiere B4 tutto secondo i piani, spinta in E5, cavallo in E7, A3, alfiere pedone. In questa variante il nero dà il suo alfiere camposcuro e diciamo che gli rimane quello che è poi considerato nella francese, non considerato quello che è l'alfiere cattivo, cioè un alfiere che non può svilupparsi da nessuna parte. L'unico modo dove sembra che questo alfiere campo chiaro possa avere un senso, qui sicuramente non ha futuro, su questa diagonale classica probabilmente non ha futuro, l'unica cosa, l'unico senso che può avere questo alfiere è andare in A6 ed essere cambiato con l'alfiere campo chiaro del bianco. Questo è uno dei piani diciamo anche del nero. E infatti arriva B6, l'idea è proprio quella, l'idea è ok, metto subito l'alfiere in A6 e ti propongo il cambio, ma Carson non sta lì ad aspettare con una mossa normalissima e comunissima come cavallo F3, ma gioca subito donna G4. Che cosa vede? Vede una debolezza e ora attenzione che il nero potrebbe arroccare ma gli potrebbero arrivare tanti attacconi importanti, cioè questo è vero che può essere parato magari da un cavallo G6 o da un cavallo in F5, però poi arriva anche a H4. Insomma ci sono tante veramente possibilità d'attacco, motivo per cui in partita il nero decide di non arroccare ma di giocare cavallo F5. Il cavallo spesso e volentieri nella francese va in F5 e in questo caso svolge anche un ruolo difensivo. Alfiere D3, mossa logica, voglio eliminare questo cavallo che è difensore del punto G7, quindi se elimino il cavallo ovviamente cade anche il punto G7. Il nero anche lui decide di giocare una difesa attiva con un contrattacco, viene minacciata la regina che Carson sposta in H3. Come potrai ben immaginare H3 non è la casa migliore dove poteva andare la donna, la cosa migliore era farla rimanere su questa colonna per continuare a fare pressione su G7, ma ciò non era possibile e quindi urgeva una ritirata. Per esempio F3 sembra una casa un pochettino migliore per la donna, H3 sembra un po' sacrificata lì nell'angolino. Pedoni C5 per il nero e adesso arriva una mossa che inizia a farci capire il livello di comprensione che ha questo ragazzino di 11 anni del gioco degli scacchi. Qui che mossa giocheresti? Non so, probabilmente così a sentore, un cavallo F3, un cavallo E2, così senza pensarci su due volte. Alla fine è una mossa buona, una mossa che prima o poi bisogna fare. Carson gioca invece il cambio dell'alfiere sul cavallo. Il perché di questa mossa? Adesso lo andiamo a vedere dopo la cattura. Va bene, ci sono creati dei pedoni doppiati e ci fa sempre comodo, ci fa sempre bene giocare contro dei pedoni doppiati, ma il vero vantaggio, la vera vittoria di questo cambio è che adesso il bianco controlla essenzialmente benissimo le case nere. E infatti ora tutti i piani del medio gioco si baseranno su aumentare il controllo delle case nere e giocare sulle case nere, case che sono deboli per il nero. Infatti arriva subito. Donna G3, ci sono varie possibilità di supportare alfieri, ci sono attacchi diretti contro G7 che guarda caso si trova su casa nera. Rf8 probabilmente è la scelta più saggia, non aveva troppo senso a roccare corto e adesso arriva H4, questa è un'altra mossa che serve sempre a ipercontrollare di più le case chiave nere, quindi cavallo F3, cavallo G5, insomma è un gioco posizionale molto molto importante. Cavallo C6, il nero cerca di ottenere in qualche modo contro gioco sul centro e arriva la mossa intermedia, alfiere G5. Si minaccia la regina. Ora qui la mossa corretta è quella di spostare la regina, dove probabilmente in C7 la regina starà molto bene, ma il nero gioca una mossa che quando l'ho vista mi ha sorpreso parecchio, soprattutto per il punteggio che ha il nero, cioè oltre 2000 punti. Una mossa che probabilmente oggi nel 2023 neanche un amatore giocherebbe, e qui siamo nel 2001, quindi probabilmente la teoria degli scacchi non era così forte e radicata come oggi, il nero gioca F6. Ovviamente perché questa mossa non è buona? Perché F6 indebolisce ancora di più la posizione, ora sono creati veramente dei buchi interessanti, soprattutto quello in G6, e quindi manovre, sparo, cavallo E2, cavallo F4, cavallo G6, doppio. O comunque anche se non avviene un doppio, quello può essere in futuro un avamposto incredibile per quel cavallo. Posto che non ci sarebbe mai stato senza questa spinta di indebolimento. Ma ad ogni modo, continuiamo. Arriva la spinta in F6, cattura del pedone, cattura ovviamente di pedone e non di regina, pedoni ancora doppiati, ora, ritirata strategica dell'alfiere, dove? In E3, perché qui il nero ha dei conti sospeso sul centro, quindi alfiere in E3. È vero che questo alfiere ora sembra un pedone un po' cresciuto, ma era sicuramente la casa, l'unica casa dove andare. Donna E7, questo alfiere ora non fa più il compito di difensore di questo punto, poiché l'alfiere è inchiodato. Cavallo E2 per togliersi dall'inchiodatura, ma soprattutto, come abbiamo già detto prima, il cavallo prima o poi vorrà andare in F4. E guarda ora questo cavallo quanto può essere forte se riesce a raggiungere la casa G6, ma anche il pedone di E5 è debole. Quindi tutte le debolezze pian pianino stanno venendo a galla. Alfiere E6 per sviluppare il pezzo, arrocco corto per Carlsen, re in F7 per permettere anche all'altra torre, di venire in gioco. Cavallo in F4, l'altra torre va in gioco e adesso bisogna spostare la regina, non ha troppe case, sicuramente la più sensata è la casa F3, dove si fa pressione sul centro. Donna D7 per difendere e adesso una mossa probabilmente non necessaria, ma umana. A me piace dire umana, ok, il motore non la considera quasi un errore, ma è una mossa umana, torre in Ava in D1. Una mossa umana che ha assolutamente senso, l'idea è quella di catturare il pedone C e continuare con la pressione sul centro del pedone D5, nonostante questa mossa del computer non la consideri troppo buona, ma è una mossa sicuramente umana. Ti starei chiedendo forse se si poteva per caso catturare il pedone in H5, la risposta è no. E infatti per questo car se non lo gioca. Uno, non si cattura ad intuito, semplicemente ad intuito se tu vai a catturare qui hai essenzialmente aperto la colonna H. Devi sapere che in fase d'attacco i propri pedoni sono i più fastidiosi, cioè per il nero che sta attaccando, il pedone H5 è un pedone veramente d'intralcio, perché la torre non potrà mai attivarsi, non può la torre catturare un proprio pedone. Quindi finché c'è quel pedone in H5 la colonna H è chiusa. Nel momento in cui tu vai a catturare questo pedone, è vero che ora il nero si trova sotto di un pedone, ma ora c'è veramente il raggio dell'azione della torre nera che fa veramente paura. Ma al di là di questo c'è proprio un qualcosa di più pratico che arriverebbe torre G4 con tantissime idee. Iperpressione qui, possibilità di catturare qui, ma soprattutto possibilità di catturare il cavallo, visto che si è fatto interferenza con la propria regina e qui sarebbero abbastanza dolori. Anzi, forse prima questa e poi questa, così l'attacco diventa ancora più chiaro. Ora per esempio un pedone... Sì, no, qui bisogna ritirare il cavallo. Si ritira il cavallo, adesso c'è questa addirittura con idee di matto, quindi sarebbe troppo rischioso. Motivo per cui Carson gioca la comune mortalissima torre in A va in D1. Per evitare la cattura e quindi che si possa aprire la colonna D, il nero decide di chiudere la situazione con la spinta in C4 e ora ti ho voluto evidenziare in giallo che il nero è fortissimo sulle case bianche, controlla le case chiare, ma è molto debole sulle case nere. Adesso vediamo se ci sarà un modo per approfittarne. C'è da dire che ora questo pedone doppiato un pochettino un ruolo di difensore lo fa. Vediamo come continuare. Torre in F va in E1. L'idea qual è? Di togliere questo alfiere e con la torre e il cavallo di andare a partecipare e iniziare a attaccare l'alfiere. Qui arriva un'altra mossa sorpresa che è Torre G4. L'idea è sempre quella di attaccare il pedone, ma attenzione! Adesso arriva un qualcosa di interessante. Arriva prima G3 per evitare qualsiasi tipo di perdita. E dopo una mossa come Re in F8, che è una mossa che al momento non riesco a trovare un senso pratico, ok, probabilmente qui il nero voleva solo perdere un tempo senza far nulla, ma grazie a questa mossa il Re perde il contatto con l'alfiere e come puoi vedere ci sono un po' di attacchi a raggi X. E infatti arriva, cattura, cattura e ora veramente ci sono gli scacchi di scoperta. Alfiere in H6, scacco Re. Il Re si deve spostare e si perde la regina. Re in F7, Torre per, Regina per e adesso alfiere F4 per evitare qualsiasi spinta di rottura e controgioco e ovviamente riportando in gioco il proprio alfiere. Cavallo in E7, Torre in E1, Re in D7 e adesso dopo Donna in E3 il nero decide di abbandonare perché le entrate della donna sono troppe. Arriverà, credo, il matto in poche mosse grazie anche alla collaborazione dell'alfiere Camposcuro. Insomma, questa partita finisce in 28 mosse per vittoria di Carlsen. Quindi Carlsen è un 11enne e si porta a casa un'ottima vittoria contro un giocatore da 2062 punti. Rivediamo velocemente la partita. Una francese dove il nero cerca subito di cambiare l'alfiere. Il gioco attivo di Carlsen impedisce per un attimo questo piano e ora si gioca sulle case scure. Quindi ottima idea di trovare subito le debolezze e di sfruttarle. H4, questa mossa la puoi fare solo se capisci veramente la strategia. La strategia e i concetti posizionali. Cavallo C6, l'alfiere qui per provocare l'indebolimento. Il nero accetta e qui, da qui se vogliamo, possiamo dire che il vantaggio del bianco è veramente, veramente grande. Avampostone di cavallo in F4, ricordiamoci che i cavalli stanno benissimo davanti ai pedoni doppiati. Torre che attacca la donna, donna che si sposta. Il bianco ha praticamente avuto l'iniziativa dall'inizio alla fine della partita. E qui arriva il colpo tattico che ovviamente fa crollare la posizione. Come vedi le partite si chiudono e poi si vincono sempre con un colpo tattico. Per questa ragione è importantissimo sempre esercitarsi. Noi abbiamo appena pubblicato, e lo trovi sia sul nostro store che su Amazon, il libro Tattiche di Scacchi. Te lo faccio comparire qui insieme a un'impressione. È un libro fatto da 150 problemi, in ordine progressivo di difficoltà, che puoi fare direttamente da casa tua, dal tuo letto alla sera, prima di andare a dormire. E ti fai questi esercizi, ovviamente nelle pagine successive ci sono le soluzioni, e questo aiuterà a migliorare il tuo occhio tattico, importantissimo per vincere le partite a scacchie. Grazie per aver visto tutto il video fino a qui, noi ci vediamo presto. Ciao!